L'obiettivo della nostra associazione è quella di partire dalla formazione e dall'esperienza in ambito formativo per creare una sorta di rete e soprattutto un terreno fertile che arrivi poi ai cittadini, a ognuno di noi, creando questo senso di autoprotezione e di resilienza che può essere utile ovviamente in caso di calamità e non solo.